Il sistema muscolare. La navigazione all'interno del laboratorio virtuale viene effettuata cliccando sulle icone punti di interesse. Inoltre è possibile cambiare il punto di vista ruotando intorno al tavolo tenendo premuto il tasto alt più il tasto sinistro del mouse e trascinando quest'ultimo. Effettuare lo zoom con la rotellina del mouse o in alternativa utilizzando le gesture standard del dispositivo touch. Tramite l'utilizzo del mouse come descritto in precedenza è possibile esplorare il sistema muscolare nel suo complesso. Cliccando sui punti di interesse si accede alla visuale relativa allo specifico elemento del sistema muscolare. Grazie per la visione!